Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Lele King TV, il canale del collezionismo ragazzi dei calciatori panini e non soltanto sia di card che di figurina ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti perché ci divertiremo un sacco quest'anno con questa collezione di XL 2021-2022 ma anche con tutte le altre collezioni che usciranno a breve tipo FIFA 365 ragazzi, porteremo FIFA 365 come ogni anno porteremo l'album della Champions della Topps e porteremo i calciatori panini che usciranno circa a dicembre detto questo adesso ragazzi ci concentriamo su questa collezione con tutto quello che gira intorno anche il gioco online abbiamo sto malloppo dei card da inserire nel nostro raccoglitore, saranno tutte card mancanti non ci mettiamo in mezzo anche le doppie che per adesso ce n'ho un po' ma non tantissime per dire la verità e che dire ragazzi iniziamo, intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanella c'è l'altro canale quello delle live reaction delle partite, iscrivetevi anche lì Lele King Live TV e seguitemi su Instagram perché ogni tanto insomma vi metto anche qualche quiz interessante qualche cosa da sapere sfiziosa sulle collezioni e sui calciatori ok ragazzi, soprattutto nelle storie iniziamo con l'Atalanta la prima card che abbiamo a inserire è la numero 8 che va qui che è Lovato eccolo qui, Lovato questo giovane molto molto interessante è la prima card di questo raccoglitore il raccoglitore che iniziamo, il cielo mi manca un po' tardi perché come sapete è arrivato tardi in edicola poi abbiamo Toloi con il numero 9 ragazzi molti mi hanno scritto negli anni passati adesso non so, comunque io ve lo ripeto mi hanno scritto come fai a sapere dove vanno le card ma ragazzi c'è scritto qui sull'inizio della pagina si vede da 1 a 9, logicamente la 9 è l'ultima l'una è quell'altra e le altre poi di conseguenza così come la pagina dopo abbiamo poi la 10 che è The Rune dell'Atalanta poi abbiamo Malino Vischi col 12 sempre della Thea poi abbiamo la 13 Miranciu la 14 Pasalic ragazzi non provate a scaricarvi i codici perché questi sono tutti scaricati non perdeteci per niente tempo ilicic comunque i codici ve li regalerò durante le live qualcosa su Instagram e qualche altra cosa poi vediamo come regalarlo ma comunque ragazzi regaleremo a breve anche i codici dei miei doppioni ok quindi un altro motivo per iscriversi e seguire l'Eleking TV ovunque su qualsiasi piattaforma poi andiamo al Bologna con la 19 non faremo tutto un video di queste di queste di questo ce lo mi manca ragazzi perché? perché comunque sia sono veramente tantissime card come vi ho fatto vedere quindi faremo un po' spezzati faremo circa video di 7-8 minuti per poi continuare poi abbiamo la 28 Dominguez eccolo qui poi abbiamo la 30 Svanberg poi abbiamo la 31 Arnautovic che ha rosicato una cifra durante l'europeo poi abbiamo la 32 Orsolini la 33 che è Vignato e col Bologna abbiamo finito si passa al Cagliari Radunovic con la card numero 38 il numero della card ragazzi è qui sotto magari qualcuno mi chiede pure ma dov'è il numero della card? sta qua sotto state tranquilli che c'è tutto ci sta anni i numeri ci sta non vi preoccupate la 39 che è Cepitelli che va qui poi abbiamo Diego Codin col 40 poi abbiamo il numero 43 che va qui sotto di qua la 44 che è Carboni e mettiamo anche questa facciamo vedere intanto la prima pagina per Cagliari eccola qui poi abbiamo il numero 45 che è Zappa la 45 va di qua ancora che quasi si inizia da 46 45 era l'ultima sì eccola qui poi abbiamo il numero 51 quindi 46 47 48 49 50 51 Gioao Petro Supercombo Gioao Petro che giocatore ragazzi poi abbiamo Cherry col 54 che è l'ultima card poi abbiamo Brignoli come sapete c'è una simpatia per questo uomo c'è la faccia simpatica Brignoli col 55 c'è la faccia simpatica poi magari è antipatico però c'è la faccia simpatica non lo so perché mi è stato sempre simpatico da quel gol che fece non perché fece il gol al Milan per carità ma però sai che c'è un portiere che segna è una cosa rara e quindi mi è entrato in simpatia non perché abbia segnato al Milan per carità perché non c'è niente contro il Milan o contro i tifosi del Milan Brignoli Bandinelli e Crociata dell'Empoli poi abbiamo il numero 66 che è Stulac poi abbiamo l'89 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 l'69 mamma mia mi sembrava stra 67 68 69 eh ragazzi è l'età è l'età non ci si vede più ce l'avevo 10 decimi a 18 anni non ci vedo più 72 no sto scherzando ancora ci vedo abbastanza bene però stavolta sarà il buio sarà la stanchezza avevo visto 89 invece che 69 è Mancuso poi andiamo alla Fiorentina dove abbiamo la 74 che è Terracciano e penso che con la Fiorentina poi ci fermiamo la 76 che è Igor la 77 che è Venuti poi abbiamo l'83 che è Castrovilli la Fiorentina sta a fare un bel campionato la 88 che è Kwame e l'89 che è Cocorin ma facciamoci un'altra squadra facciamoci anche il Genoa Criscito il Capitano poi abbiamo la 94 poi abbiamo la 96 che è Biraschi la 98 che è Ghiglione la 99 che è la Super Combo eccola qua la numero 100 che è Berani la 101 che è Sturaro la 103 che è Radovanovic la 107 che è Favilli e abbiamo finito anche con il Genoa ragazzi a questo punto vi saluto ci vediamo nel prossimo video perché continueremo il ce lo mi manca di questa raccolta dei treni XL 2021-2022 ciao a tutti